Dotata di equipaggiamenti di prima classe, la nuova Volkswagen Tiguan Allspace è perfetta per le famiglie e come moderno SUV multiuso, dotato di trazione anteriore o intelligente sistema di trazione integrale 4Motion. Nuovi ed evoluti sistemi di assistenza come Travel Assist, guida assistita fino a 210 km all'ora, conducono a destinazione i passeggeri in tutto relax e nel massimo comfort. Con il sistema modulare di infotainment di terza generazione MIB3, la Volkswagen consente la connettività migliore possibile e numerosi servizi online. La gamma di motorizzazioni della Tiguan Allspace entusiasma per potenza ed efficienza. I 2.0 turbodiesel a iniezione diretta TDI da 150 e 200 CV sono abbinati a un doppio catalizzatore SCR con doppia iniezione di AD Blue. Con questa tecnologia le emissioni di ossidi di azoto vengono ridotte fino a un massimo dell'80%. È stato possibile ridurre significativamente anche le emissioni di CO2 dei motori. Allo stesso tempo è stata ottimizzata la prontezza di risposta. Altamente efficiente è anche il funzionamento dei tre motori turbobenzina a iniezione diretta TSI della Tiguan Allspace. L'1.5 TSI da 150 CV con cambio manuale a 6 rapporti, cambio DSG a 7 rapporti disponibile a richiesta, dispone del sistema di gestione attiva dei cilindri ACT. I due 2.0 TSI sono abbinati di serie a un cambio DSG a 7 rapporti e trasmettono la loro potenza di 190 o 245 CV a tutte le quattro ruote. Con il suo nuovo design, che si segnala tra l'altro per un frontale rivisitato, la Tiguan Allspace presenta una lunghezza di 4.723 mm, mentre tutte le dimensioni interne sono rimaste invariate. Il SUV verrà offerto nelle versioni Life, Elegance e Airline. Inoltre è prevista poi anche una versione d'accesso. Tutte le nuove linee di allestimento offrono una gamma di equipaggiamenti ancora più ampia e completa rispetto ai modelli precedenti paragonabili. La seconda generazione della Tiguan Allspace convince con numerosi nuovi sistemi di infotainment, MIB3 di ultima generazione, che sono collegati in rete e mettono a disposizione differenti tipologie di servizi e offerte d'assistenza. Insieme allo specialista del suono Herman Cardon, Volkswagen ha sviluppato per la Tiguan Allspace un nuovo Sound System Premium disponibile a richiesta. Subwoofer, amplificatore digitale a 16 canali, 8 più 1 altoparlanzi High Performance e un amplificatore con potenza totale 480 Watt assicurano un suono High End su tutti i posti a sedere. Un nuovo stadio evolutivo della luce è segnato dai fari a matrice di LED EQ Light. Tramite una matrice di 24 LED per ogni modulo faro, vengono attivate e proiettate sulla strada differenti funzioni di illuminazione, alcune delle quali sono interattive. Un'ulteriore nuova funzionalità di illuminazione è rappresentata dal movimento di scorrimento della luce degli indicatori di direzione a LED. Anche i gruppi ottici posteriori a LED sono stati concepiti ex novo dal punto di vista grafico e tecnico. La Tiguan Allspace della nuova generazione sottolinea la sua identità ricercata anche grazie al potente climatizzatore automatico a tre zone Haircare Climatronic. Due sedili singoli supplementari optional nella terza fila consentono alla 5 posti Tiguan Allspace di trasformarsi in un SUV con spazio perfino a 7 persone.